Adesso aspettiamo che spiova noi il frattempo siamo qua, siamo chiusi, però almeno sono poco fitte quindi non ti fanno la doccia, te ne cade una addosso ogni tanto, però quando cadono fanno male. Ecco qua, ecco l'imbarco per le seggiole, perché questo qui sarebbe un telemix. Però d'estate vengono montate solo le cabine, spero di riuscire a fare in inverno una volta quando il seggiole in linea. Se qualcuno vuole caborie io le metto qua. o un po' di colazione. Bene, comunque si. Vabbè adesso magari su possiamo anche entrare, aspettiamo che spiova e quando spiove torniamo giù e poi facciamo un po' di passeggiate qua. tanto ce n'è finché vogliamo. Io introduco un po' di fluidi all'interno dell'organismo. Mentre era da YouTube. Cosa si è? Cosa si è capito? Beh questo va su YouTube. Telemix Bullaccia, doppelmeier anno 2009 e ha sostituito una seggiovia monoposto Zenella del 1982. che a sua volta sostituiva una monoposto Graffer del 1960. Qualcuno qui ha provato anche quella vecchia. Eccomi. Io purtroppo non l'ho fatto in tempo. Qui c'è la seggiovia Euro e la panorama che ho filmato nel 2016. Ah, la si vedono altri impianti che però troppo non conosco quindi non so le posizioni a memoria. Conosco solo quelli che vanno in estate. No, quella la dovrebbe essere la flora rampina, quella la in cima. Qua è paradiso. Cosa? Paradiso. 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 Ladre. C'è proprio questo adesso. E' più su di là. Sono uberiaco. Come è il treno? Sciorragliato. Ho diventato un treno. Huh! Come è scoperto! E' squž��. a una velocità... ahi daia... 130! L'autostrada si vola! Beh, prima venendo su, sull'A22 che velocità media avevamo? 180, 190, dai più o meno. In terza corsia. Soprattutto sull'A22 che ha solo due corsie, la terza corsia si verrebbe che è una meraviglia. Vedo un po' di soldi? Sì, anche là. Sì, ma questi sono i classici temporali del pomeriggio che finiscono. Dai, dai. Stiamo al coperto finché piove, esatto. Penalmente. Sì, sta viaggiando o che sembra quasi una cestovia dalla velocità? Siamo spiacenti, con il primo teleoperatore. Come si è? Ti ha chiamato? Dove vai? Dove sono? Ma cosa c'è? Go쳐, guarda. Guarda un ismerito. Guarda un mare. Guarda un esatto che passera. Guarda un bel colore. Guarda un motile. Adesso, a parte gli scherzi, però, visto che adesso non faccio per vantarmi, ma sono un po' l'influencer degli impianti a fune, c'è stata qualche località che mi ha chiesto se ci andavo, perché qui non mi frega niente che io ci vada, però ci sono dei posti dove mi hanno chiesto se ci andavo, così per fargli un attimo i nomi, e qualche volta l'ho anche fatto. Sì, sì, fai, fai. Allora, fino a poco fa faceva un caso sull'adressa, c'è un temporale, ma passerà prezzo. Comunque, ci sta bene, c'era una figata. Ti c'è avuto Ron e Tom. Vabbè. Sì? Io non. Ah, ok. Sabe, direi che ho sbagliato, ho sbagliato. Che farmi impossibile. Mandiamo una foto a Piero. Vabbè, gli mando il selfie di prima. Ah, quello? Sono solo e sulla cammino via, discusi. In un vortice di polveri gli altri vedevano siccità. Non è ricordato, non è vicenda. Non è vicenda, non è vicenda. Buono, siamo arrivati. Buono. Sì. È molto breve. Guardi, l'inverno quanto durerà? Tre minuti in solo. L'inverno, sì. Sta facendo meno della metà. L'inverno è la 2.60. Io ho fatto l'esercizio. La teoria, il massimo che può fare è 5.00. No, non lo farai non. Ecco, e questa stazione è un perfetto esempio perché non mi piacciono molto i Telemix. Ecco, l'asse gioia monoposto arrivava in muratura dentro al rifugio della bullaccia. Arrivava esattamente là dentro. Credo. Non so se arrivasse esattamente là. Forse dentro si riesce a vedere. La dia lo chiedo. E qui vediamo perché questa stazione di fatto è enorme perché ha bisogno di due pedane di sbarco. Visto che è omologata anche per la discesa, il problema è che per esempio sul Telemix Laner si è potuto evitare, si è fatta una stazione molto più piccola, però sul Laner bisogna essere veramente lesti a sbarcare perché non c'è spazio. E quindi seggio ci si sbarca giù di qua, si scende giù di qua così e invece in cabina si scende di qua. Ma la prima stella? Sì, però è una serie, sì. Madonna, rimane tutto. È tutta, è finito. Non, ma non è figo. Figo, sì, però adesso. Quasi vado alla fine. Eh? Quasi vado alla fine. Eh, quasi. Ma qualche euro in meno? 8 è la più bella. Guarda, 8 faccio i piedi. Io, boh. Un pulaccio. Un pulaccio. Un pulaccio. Un pulaccio. Un pulaccio. Grazie a tutti.